allora avevo trovato questa casa qua io da quando io sono andato mille aia di volte se non avete visto neanche un video vuol dire che non avevo ancora il canale si ce l'avevo ma non lo facevo io questa è la casa entriamo siamo con l'iu bene spero che non si faccia niente sono mezzo sudato non avevo idea ed è questa qua io sono entrato migliaia di volte e so già com'è io volevo farvi vedere questo sembra un arcobaleno e non è un arcobaleno ora qua c'è anche io per entrare andiamo attenzione attenzione all'iu ma non ti conviene prenderla in braccio vedete qua c'è ci sono migliaia di mattoni pure lì qua c'è tutto c'è una pianta mega enorme volevo solo farvi vedere una cosa vedete qua è tutto pieno di mattoni di tubi e cose varie si vediamo noi ci vediamo in un prossimo video vi ho fatto vedere questa casa al volo magari quando abbiamo l'iu quando non abbiamo l'iu fatemi sapere se la volete visitare al meglio noi ci vediamo in un prossimo video